Ah, c'è bene. Oggi, sabato 26 ottobre, abbiamo nel Vangelo di Luca delle piccoli racconti di avvenimenti, delle catastrofi. Ecco, nel Vangelo ci indica come saper interpretare bene la realtà. Ecco, quando accadono disgrazie, noi di solito diamo la colpa a quelle persone che hanno ricevuto la disgrazia. E qui nel Vangelo parla di alcuni Galilei che sono stati uccisi da Pilato mentre erano al Tempio, mentre facevano un sacrificio. Una cosa gravissima, sembra una punizione divina contro queste persone. Oppure è accaduto il crollo della Torre di Siloe e sono morte 18 persone. E' questo, come mai queste persone sono morte così per questo incidente all'improvviso? Ecco, l'interpretazione della giudaica, della mentalità giudaica, la malattia, la sofferenza erano punizioni per un peccato commesso. Ecco, e quindi tanto più la morte. Ecco, si pensava che una persona che moriva improvvisamente era una punizione divina. Questa persona aveva fatto qualche peccato grave. Questa era la mentalità giudaica del Deuteronomio. Ecco, Gesù mette in crisi questa visione religiosa tradizionale della punizione per il peccato. Ecco, non è detto quindi per forza che una persona che muore all'improvviso sia colpa sua. Il male certo colpisce l'uomo, ma non sempre per la sua colpa. Può essere colpito per altra ragione. Quindi la morte improvvisa, ecco, il Vangelo ci dice, deve farci riflettere soprattutto sull'urgenza della conversione. Essere pronti a morire in Cristo. Cioè, essere pronti. Infatti ci parla poi della Fico, il quale non produce frutti da tre anni e con supplica, da parte quindi dell'agricoltore, ottiene ancora un anno di revoca prima che sia mandato via, ecco, per produrre ancora frutti, che sia distrutta questa vigna che non produce frutti. L'agricoltore, se vogliamo, è Gesù che supplica la misericordia. Che cosa significa? Che noi siamo chiamati alla conversione, cioè a impegnarci, a convertirci. Il Signore ha misericordia di noi, però aspetta la nostra conversione, ma richiede che ci convertiamo a Lui. Quindi le disgrazie e le morte improvvisi ci insegnano, ci dovrebbero spronare alla nostra conversione, cioè a cambiare mentalità, a metterci più vicini a Gesù, perché non sappiamo l'ora e il momento in cui ci chiama il Signore. Ecco, che cosa dice la prima lettura di oggi di San Paolo agli Efesini? Dice proprio questo, che il Signore ha dato dei carismi, ha dato dei doni, ha dato delle grazie. Ognuno di noi, ciascuno di noi, abbiamo un dono, sotto l'azione dello Spirito Santo. Magari siamo chi apostoli, chi è capace di predicare, chi è capace di essere maestro, guida, dei compiti. E certamente tutti noi possiamo fare delle cose buone, però dobbiamo rimanere uniti nella fede, in Cristo Gesù, come uomo perfetto, come figlio di Dio, rimanere fedeli a quello che è il catechismo, fedeli quindi a quello che ci dice il Signore, la Chiesa, perché altrimenti possiamo essere come fanciulli sbalottati da qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini, trascinati all'errore e all'eresia. Quindi ecco, noi abbiamo il catechismo, che bellissimo, sta facendo un po' delle catechesi il giovedì sera, ecco, abbastanza, non sempre, ma cerco di farle, dove parlare un po' del catechismo, leggere un po' il catechismo al giorno d'oggi, anche vedere come la dottrina di Gesù, del Signore, è presente, buona, ci insegna a vivere bene e a convertirci a Lui. Ecco, in particolare, mi ha meditato giovedì che Dio è il creatore, il creatore di ogni cosa e che Lui veramente ci ama, ha un progetto di amore per noi, ci vuole bene e ci vuole portare a fare cose buone, quindi ogni giorno a portare il nostro frutto. Bene. Padre nostro che sei nei cieli, si è santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come un cero così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci la tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, pieni grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Dio Nipotente ci benedica, Padre, Figno e Spirito Santo. Buona giornata. Grazie a tutti.